Venerdì 28 ottobre Rossini TV presente oggi ad Ancona presso la sede della Regione Marche per questa che è una data che di fatto contrassegna una ripartenza bis per la giunta regionale di Francesco Acquaroli a due anni e una settimana dall'inizio della legislatura. Si riparte con una nuova giunta, una nuova squadra, i nomi sono quelli ormai noti da settimane, hanno lasciato la giunta regionale in direzione del Parlamento, Mirko Carloni, Giorgia Latini e Guido Castelli sono stati sostituiti nell'ultima settimana, proprio in settimana c'è stato il primo consiglio regionale alla loro presenza, da tre nuovi assessori Andrea Antonini, Chiara Biondi e Goffredo Brandoni. Tre nuovi assessori per un lavoro di continuità che ha a che fare con tante emergenze come ricordato anche il presidente Francesco Acquaroli che ha riunito l'intera squadra compresi anche gli assessori in carica da inizio legislatura ovvero Stefano Aguzzi, Francesco Baldelli e Filippo Savaleta Martini che tra l'altro è diventato vicepresidente della Regione. Si riparte con tre nuovi assessori a cominciare da Goffredo Brandoni che diventa il nuovo assessore al bilancio dopo che da ex sindaco di Falconara proprio nel suo comune gestì un bilancio molto complesso, ora un'avventura completamente diversa col bilancio di quasi 5 miliardi della Regione Marche. Il 78% dei 5 miliardi riguarda la sanità e la rimanente parte riguardano tutti gli altri assessorati, tutti gli altri servizi. Indubbiamente oltre a tutto questo come dicevo tagli della finanza pubblica che sono stati avviati da parte del Governo centrale nei confronti degli enti locali, in particolare comuni e regioni ma più che altro le calamità che ci sono capitate, quella del terremoto del 2016, l'alluvione recentissima e in mezzo una pandemia, una crisi energetica che ha ripercussioni su aziende e imprese purtroppo. Da Brandoni ad Andrea Antonini che eredita ben 24 deleghe appartenenti all'assessorato di Mirko Carloni. Le priorità sono quelle di cercare di dare un supporto importante al tessuto produttivo marchigiano che è in grande difficoltà per i problemi che purtroppo conosciamo tutti, calamità naturali ma anche sanitarie, economiche e quindi penso che la Regione dovrà lavorare parecchio per sostenere le aziende. Quindi questa è la priorità. Sulla energia credo che possiamo porre un'attenzione particolare, proprio lo sviluppo energetico e credo che sia strategico del mio assessorato. E poi le quote rosa rimbalzate da Giorgia Lattini a Chiara Biondi con l'assessorato all'istruzione, alla pari opportunità e anche allo sport. Per il discorso della cultura, ovviamente portare avanti la candidatura dei teatri perché la nostra è la regione dei teatri, poi per quello che riguarda ad esempio lo sport contiamo di portare sicuramente qui nelle marche delle importanti manifestazioni anche a livello internazionale in modo tale anche da far conoscere il nostro territorio. Stiamo lavorando anche sul terzo settore perché comunque anche questa è una delega importante, volta in maniera particolare all'associazionismo e sappiamo perfettamente quanto è importante il ruolo che le associazioni svolgono nei nostri territori. Non meno importante l'istruzione, proprio ieri ho avuto in confronto con il ministro e il neoministro Valditara dove soprattutto io ho fatto presente quelle che sono le criticità che il nostro sistema scolastico deve affrontare, in maniera particolare il problema delle classi pollaio ma soprattutto un'applicazione troppo stringente di quelle che sono le norme del DPR 81 del 2009 che prevede in maniera particolare che per poter costituire delle classi dobbiamo attenerci a quelle che sono le indicazioni numeriche. Purtroppo le marche nonostante siano previste delle deroghe all'interno di questa normativa non sono per noi però favorevoli e quindi cercheremo di portare avanti con il ministro anche una certa apertura per concedere delle deroghe più importanti.